Questo video riguarda i migliori 3 bollitore elettrico. Il vincitore della qualità è il Bonsen Kitchen bollitore. Il bollitore in acciaio inossidabile con 4 precise impostazioni di selezione della temperatura, offre tè e caffè con il miglior gusto o semplicemente riscalda o fa bollire l'acqua. 40 gradi centigradi latte-acqua, latte, altri liquidi, tè verde 60 gradi centigradi, caffè stampa francese a 90 gradi centigradi, debollizione 100 gradi centigradi. L'interno del bollitore in acciaio inossidabile Bonsen Kitchen, compresa la parete interna, il filtro, il beccuccio e il coperchio interno. Il sistema a doppia parete del bollitore realizzato in materiale pagine di alta qualità. La caraffa in acciaio inossidabile è ricoperta di plastica resistente al calore per evitare ustioni. Elegante superficie nera dell'alloggiamento, lo schermo LED è nascosto quando è spento, il LED bianco si illumina quando è acceso, ti tiene informato sulle temperature in tempo reale. Bollitore elettrico in acciaio inossidabile da 2200W, fai bollire 1,7 litri di acqua in 4 a 5 minuti, risparmia tempo per semplificarti la vita. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Russell Hobbs Bollitore. Il bollitore Textures Plus combina tre aspetti, qualità, funzionalità e design, rendendolo così la scelta ottima per chi vuole un prodotto che sia comodo e pratico all'uso, ma anche bello da esporre in cucina. Doppia finitura in plastica nera di alta qualità con dettagli in acciaio inox. Indicazione del livello di acqua per 1-2-3 tazze. Porta ad ebollizione una tazza d'acqua in 50 secondaria. Risparmia fino al 70% di energia. Spia blu durante l'ebollizione. Il vincitore del premio è il Grifema GC1001. Il bollitore elettrico Grifema ha una capacità massima di 0,8 litri. Questo bollitore elettrico ha un'elevata potenza di 1100W, che consente di far bollire rapidamente l'acqua. Il bollitore elettrico è realizzato in plastica alimentare senza BPA, con un filtro anticalcare rimovibile per una facile pulizia e per migliorare il gusto e la qualità dell'acqua bollente. Impugnatura ergonomica Cool Touch per un uso più comodo e sicuro. Contiene anche un sistema di protezione contro l'ebollizione a secco e il surriscaldamento per proteggere la sicurezza degli utenti. Base girevole a 360esimo indipendente. Puoi riporre il cavo nella base e spostare il bollitore dove vuoi. Il chiaro indicatore del livello dell'acqua e la spia luminosa lo rendono facile da usare. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.